Salve ragazze, benvenute e bentrovate, buongiorno, buongiornissimo, quest'oggi faccio il messaggio del giorno con questa inquadratura, vediamo se vi piace, visto che ho la telecamera al contrario, voglio dire se riesco a farvi vedere meglio le carte in uscita. Allora, come state? Spero bene e spero che tutte le cose che mi vadano così come voi desiderate, mi raccomando, sempre piene di energia, sempre piene di buone proposite perché le cose, diciamo, le energie propositive vi attirano le cose propositive. Allora, bando alle ciance, andiamo subito a fare l'elenco delle carte. Abbiamo qui, aspettate, prendiamo questo, ecco, abbiamo i tarocchi viceversa, i tarocchi della New Vision, mini tarocchi dell'Harmony, mini tarocchi universali, abbiamo le sibille di Nostradamus, i tarocchi napoletani, le sibille italiane e francesi, gli oracoli di Elen e le carte gialle di Zaira. Ora, andiamo subito a mischiare e a fare la nostra scelta. Ora, voglio fare anche questa novità perché, insomma, spesso qualcuno ogni tanto mi dice, ah, troppo tempo prima che venga il messaggio. Allora, intanto io dico sempre che per chiunque non voglia aspettare può tranquillamente andare direttamente alla posizione del video dove appunto c'è il messaggio. Però io voglio vedere se questa nuova formula vi può interessare un po' di più. Qua sono uscite due carte e le prendiamo e farò anche, diciamo, dall'introduzione alla spiegazione del messaggio, metterò il tempo. Quindi voi troverete nella, diciamo, descrizione del video, troverete la, appunto, l'introduzione. Ecco, questa è la carta che si è scoperta e la prendiamo e troverete il tempo di introduzione. Quindi voi potete andare tranquillamente all'inizio della spiegazione del messaggio e vediamo così se, insomma, si possono accontentare più persone. Qua sono uscite due le carte e le prendiamo. Scusatemi. Allora, che vi volevo dire? Il messaggio del giorno. Ora, è chiaro che io devo comunque scegliere le carte. È stato pensato così. Le scelgo davanti a voi. Proprio per, come dire, per onestà, no? Proprio vediamo davanti a voi le carte che escono, le carte che si scelgono. Insomma, la mischiata delle carte. Perché prepararle prima non mi sembra corretto. Anche perché, essendo un interattivo che metto tutti i giorni, quindi non voglio equivoci. Quello che esce deve essere quello che realmente le carte fanno uscire. Voglio che qualcuno pensa che io programmo prima le letture. Allora, quindi è ovvio che io nel momento in cui devo fare questa, diciamo, scelta delle carte, non posso fare scena muta. Ne approfitto per dirvi delle cose. Ora, se alcuni disturba, perché ho avuto delle critiche riguardo a questo, se qualcuno disturba il fatto che io possa parlare, ma io non è che perdo tempo a parlare. Io intrattengo nel tempo previsto per pescare una carta, intrattengo un po' parlando di alcune cose. In ogni caso, per coloro, appunto, che non hanno questa pazienza, faccio questo tentativo. Vediamo se viene bene di mettere l'introduzione, in modo che voi andate direttamente dopo l'introduzione e andate direttamente a vedere il messaggio. Ok? Allora, io adesso metto una pausa. Eccomi qua, ragazze, siamo alla spiegazione del messaggio. Ok? Quindi andiamo a scoprire le carte. Abbiamo un 4 di pentacoli. Qui le carte scoperte sono la carta degli amanti e una regina di bastoni. Poi abbiamo un 9 di spade. Ancora abbiamo la carta dell'albero e il serpente. Poi, tarocchi napoletani, abbiamo Otauto, che sarebbe la bara. Il mercante. E la carta del sole. Ok? Allora, gli oracoli di Ellen viene la mia mamma e le carte gialle di Zeira ci sono menzogne e inganni tra di noi. Quindi queste sono le carte uscite. Andiamo a fare un attimo la spiegazione di questo interattivo. Allora, ragazze, qui che cosa vediamo? Vediamo la carta del serpente e la carta dell'albero. Che cosa ci dice la carta del serpente? Ci parla di insidia, di calunna, di calunnia, di qualcuno che sta tramando al vostro danno. Quindi state in guardia e, insomma, non cadete nella rete. Infatti, guarda caso, guardate queste due carte come sono proprio in sintonia, no? Anche qua, dice, ci sono menzogne e inganni tra di noi. Quindi qua, sicuramente qualcuno vi sta ingannando. È molto semplice. Ora, in che cosa vi sta ingannando? Beh, qui vediamo la carta degli amanti. Vediamo una regina di bastoni per cui, presumibilmente, potrebbe essere che questo amore sincero che voi sentite con lealtà e con fiducia di magari provare in una relazione, in qualcuno che avete conosciuto, forse da poco o forse da più tempo. Sapete, è sempre un interattivo. Anzi, colgo l'occasione per dirvi che sono sempre interattivi collettivi, quindi prendete le dovute cautele. Se trovate dei risconti, approfondite con un consulto personale. Se lo volete fare con me, trovate tutto nella descrizione dei miei contatti, nelle mie info. Allora, vi dicevo, quindi qua sicuramente voi credevate che questa situazione, vedete, voi non siete una persona fortunata. Quindi sapete che dovete soltanto, come dire, vi dovete basare sulle vostre forze. Anzi, qua dicono, questa carta dell'albero, dice, accontentatevi solo delle vostre forze, perché se no, se vi aspettate le cose la manna dal cielo, questo stato di fatto vi potrebbe portare alla rovina. Perché se non siete voi a, diciamo, organizzarvi la vita, non è che siete tante fortunate che, insomma, tutto vi cade dal cielo. Qua ci sono, c'è una fine, vedete, brutti tempi, cautela, questa carta vi induce a non decidere. Anche se voi volete mediare un accordo, uno scambio, un contratto, qualcosa, però qui dovete più che altro, vedete, credere nel vostro talento, solo nelle vostre possibilità. Ora, di che cosa possiamo parlare qui, ragazze? Intanto voi non state bene, qua avete un nome di spade, quindi ci sono delle cose che non vi fanno proprio dormire, non vi fanno stare rilassati. Qua sicuramente c'è qualcuno che vi ha voltato le spalle, che vi ha negato una stabilità. Ora, questa stesa, vi dico la verità, può essere indicativa sia nel lavoro che nei sentimenti. Allora, proverò a fare una situazione sia in un caso che nell'altro. Allora, nel caso del lavoro, qui vedo una situazione di mancata stabilità in una, diciamo, in una società, in una collaborazione, dove c'è qualcuno che sta tramando a vostro danno e vi sta facendo stare veramente male. Quindi qua voi siete una persona che dovete lottare da sole e dovete avere cautela a non decidere in questo momento perché non firmare nessun contratto, non fare nessun scambio, nessuna mediazione, nessun accordo. E dovete fidarvi solo delle vostre possibilità, del vostro talento, della vostra, diciamo, di voi. Poi chiedete consiglio, non so, a una mamma o a qualcuno presunta tale. Insomma, qui avete bisogno di un consiglio da parte di una figura femminile perché ci sono menzogne e inganne tra voi e questa persona con cui collaborate. Potrebbe essere un socio, un collega o un datore di lavoro, insomma, qualcuno che avete a che fare a livello lavorativo. Se invece vogliamo guardare questa stesa nell'amore, qui siete stati ingannati, ahimè. Sì, siete stati proprio tremendamente ingannati da una persona che voi probabilmente avete veramente amato tanto perché vedo una donna appassionata, vedo la carta degli amanti e vedo anche che vi siete proprio dedicati a questa persona, cercavate di stargli vicino, lo accudivate, proprio come si fa con il rapporto madre e figlio. Gli avete fatto un po' anche da mamma, per così dire. Quindi qua, però avete fatto tutto voi perché questa persona vi dava poco, anzi quasi nulla, perché qua il 4 di denari ci parla, vedete in questo caso volta anche alle spalle, ci parla di una persona che non ama condividere quello che ha dentro di sé, è un avaro, una persona che cerca la stabilità ma da solo non è tanto propenso a condividerla con altri. Per cui questo scambio, questo accordo sembrerebbe che non si sia potuto fare a causa appunto di queste brutte notizie, diciamo di questa eccessiva cautela da parte di questa persona a non decidere, a non fare un esame di coscienza. E quindi questa persona vi ha potuto anche ingannare, nascondendovi magari, dicendovi che era amore invece era passione, insomma non facendo una scelta, poi sapete dovete un po' ovviamente andare a vedere a secondo di quello che vi riscontra, perché ad alcuni può essere così, ad alcuni può essere in un altro modo. In ogni caso il consiglio che vi viene da questo messaggio di oggi è fate attenzione, c'è qualcuno che mi inganna, sia nel campo lavorativo o nel campo dell'amore, non state in buone mani, quindi basatevi solo nelle vostre forze, non accettate contratti, non firmate nulla, non prendete decisioni, state in un momento di cautela, quindi cercate di risollevarvi da sola o da soli con le vostre forze, voi avete talento, avete delle buone possibilità di riuscita, siete una donna che avete comunque una grande forza, qui abbiamo una regina di bastoni, con voi c'è poco da fare, insomma siete una donna veramente in gamba, e quindi anche se probabilmente questa situazione non è andata come vi aspettavate, io vedo in voi una buona riuscita, un futuro, perché comunque siete una donna che è leale, generosa, che sapete dare fiducia, sapete dare l'amore sincero, quindi ci sarà sicuramente anche qualche nuova relazione che si può aprire per voi, perché veramente siete una persona che solo con il vostro talento, con la vostra energia, riuscite veramente a risolvere le cose più problematiche. Quindi cautela, mi raccomando, e questo era il messaggio di oggi per voi. Io vi ringrazio di essere stati con me e vi do appuntamento a domani mattina. Fatemi sapere se questa variazione vi piace, certo potete vedere di più le carte, vedete di meno a me, ma questo è ovviamente un dettaglio. Vi auguro una meravigliosa giornata, vi do appuntamento a domani, un bacione a tutti dalla vostra Zaira, ciao!